Altra tappa del tour Mixer Village, siamo qua in un altro strand a Darimpex, come vedete c'è presente tutta la famiglia, insomma una grande famiglia dove impera food and beverage, che cosa offrite, qual è il vostro prodotto? Noi vendiamo prodotti alimentari per l'Oreca in genere, soprattutto siamo una partner di Partesa con questo marchio a livello nazionale, a discussione di alcune regioni dove Partesa non è presente, abbiamo un assortimento di circa 180 referenze, abbiamo una linea che può essere competitiva nei vari comparti dell'Oreca, quindi sia nel comparto bar, ristoranti e pizzerie. Questa è la nostra mission a livello nazionale. Abbiamo vicino lo chef, è lui che cucina queste prelibatezze del marchio? Diciamo che stiamo cercando di far assaggiare, per il tempo che abbiamo a disposizione, facciamo dei finger food per far assaggiare un po' tutti i prodotti. Dulcis in fundus, non è una hostess, non confondetele anche se l'aspetto c'è, qual è il tuo ruolo all'interno del gruppo? Io lavoro in ufficio, quindi coordino le vendite, i responsabili di vendita che stanno al di fuori, sono un supporto in ufficio. Ecco, supporto in ufficio, quindi una squadra unita e vincente, un'ultima battuta all'amministratore delegato, io chiederei, insomma, nonostante la crisi, come si comporta, come vi state muovendo sul mercato? Guardi, noi abbiamo una strategia commerciale che è molto semplice, cerchiamo in tutti i modi di dare supporto direttamente sul campo ai nostri partner.